Il venerdì 9 giugno all'ora 21 in cattedrale nell'ambito della iniziativa della lunga notte delle chiese sarà ricordato anche il beato Edoardo Focherini con una serata nella quale saranno letti dei testi, delle lettere, testi biografici per far conoscere la storia e la testimonianza di questo nostro concittadino accompagnati dal corpo bandistico Città di Carpi diretto dal maestro Pietro Rustichelli. Sarà appunto un'occasione per tenere aperta la nostra cattedrale per farne conoscere i tesori artistici e culturali ma soprattutto per dare ancora una volta testimonianza al martirio del beato Edoardo Focherini.